Annuncio emozionante per tutti i nostri spettatori. Siamo lieti di informarvi che presto sul canale del Paparazzo Grafico inizierà la nuova serie televisiva intitolata Carisi Family. La serie avrà come protagonisti Loredana Lecciso, Romina Power, Albano Carisi e Albano Junior, una famiglia di talentuosi artisti che ci trascinerà in un'avventura unica e coinvolgente. Carisi Family sarà ambientata in un suggestivo castello situato a Cellino San Marco, nella meravigliosa regione della Puglia. Ci troveremo immersi in un'atmosfera misteriosa e avvolgente, dove sarà difficile distinguere la realtà dalla fantasia. Questa serie avrà uno stile innovativo e sorprendente, con un tocco di suspense e horror che lascerà il pubblico con il fiato sospeso ad ogni episodio. Unitevi a noi per questa esperienza eccezionale e siate pronti a vivere momenti indimenticabili insieme alla straordinaria Carisi Family.